Quarta giornata del Festival tra le rocce e il cielo, giornata dedicata alla storia e quest'anno tendenzialmente alla storia di genere. Abbiamo appena assistito a una conferenza a concerto sulla storia della Prima Guerra Mondiale e soprattutto sulla storia delle donne della Prima Guerra Mondiale. A voi è stato dato il compito di intrammezzare i vari interventi con dei pezzi di teatro e canzone. Siete Walter e Chiara Salin, padre e figlio. Walter è concertista, arrangiatore e regista. Mentre Chiara ha un passato da danzatrice, cantante e attrice e ora sei principalmente cantante e con tuo papà fai questi pezzi di teatro e canzoni. La prima domanda intanto che volevo farvi è quello che abbiamo ascoltato è frutto di una vostra composizione, di una vostra scelta di canzoni, testi. Chi vuole rispondere? Sì, allora come sempre quando c'è un avvenimento da commemorare e noi ci troviamo a tavolino, facciamo quattro chiacchiere, poi nasce così dopo una piccola riflessione il testo, il copione. E su questo copione poi ci riflettiamo, lo proviamo eccetera. Non era facile scrivere un copione sulla grande guerra perché non è facile, lo puoi capire, non è facile. È un argomento talmente ampio, vasto, che ha impresso delle ferite e ha lasciato sui muri della storia tanto sangue, per cui non è facile scrivere di guerra, di morte eccetera. Però lo si può fare, lo si può fare con quel pudore suggerito dal senno di poi. Noi ci possiamo permettere non di giudicare ma di valutare. Quindi è nato questo recital che abbiamo intitolato Piume di guerra. Perché la piuma, adesso vai avanti tu. È simbolo di autorevolezza, no? No, stava sui cappelli. Sui cappelli degli alpini, sì. Gli alpini, dei kaiserieger, dei versi. Che è leggera. La piuma è simbolo appunto di leggerezza, però se cade, diciamo, anche questa è una figura molto importante. Se cade è anche... Porta il sapore della morte. Della morte, sì. Se la piuma è di un uccello, cade, vuol dire che quell'uccello è morto. Quindi la piuma l'abbiamo vista così un po' come elemento volatile, leggero, emblematico, che può rimanere sul cappello di un alpino o di un fante o di chi vuoi tu, però quando cade porta con sé il sapore della morte. Piume di guerra è apparentemente un titolo frufru. Ma non è frufru per niente. Perché racconta il dramma di tanta gente che si è trovata ad essere attore, attrici, perché abbiamo parlato molto di donne, di un copione non suo. Si è trovata sulla testa a dover recitare per forza. Quindi l'abbiamo fatto cercando di rispettare il più possibile ciò che è stato. Noi siamo più giovani, lei in particolare, leggiamo queste cose sui libri di storia, spesso vengono raccontate, non proprio come dovrebbero essere raccontate. La storia non è una scienza storica. No, esattamente. Ecco, e alla fine della fiera ci ritroviamo a sintetizzare il tutto con un'intenzione di preghiera. una preghiera proprio per questa gente che ha sofferto e che in qualche modo ci ha consegnato il nostro presente che è stato il loro futuro. E poi ho portato la figura della donna, che anche questa, insomma, è un'importante. Infatti, la prossima domanda era dedicata a te. Hai dovuto affrontare testi e musiche che parlassero di donne, quindi avrai sicuramente riflettuto sulla figura della donna. La donna che viene narrata solo come moglie, madre, fidanzata o tutt'al più vittima. mai un soggetto resistente, resiliente, mai un soggetto attivo. Cosa ha generato in te? Eh, sicuramente mi sono messa nei panni di quelle donne che stavano a casa a tenere i propri figli e avere sempre questa ansia addosso perché cosa facevi? Cioè, il tuo marito, la tua metà, il tuo amore, perché alla fine hai anche un ricordo, diciamo, dell'essere fidanzate. Oppure donne addirittura che non hanno neanche intrapreso questo cammino di diventare moglie e madri. Magari gliel'hanno proprio interrotte, magari vissute come suore, diciamo, laiche, ecco, esatto. Di conseguenza, anche penso, la disperazione anche di una ragazza di vent'anni che non potrà mai avere questo sogno, farlo, realizzarlo, esatto. Quindi credo che sia triste in entrambe le parti, sia da moglie e madre e sia da fidanzata, da ragazza giovane, ecco. Il mondo della Prima Guerra Mondiale era un mondo misogeno, l'uomo era al centro di tutto, la donna era un corollario. Il mondo contemporaneo a volte non sembra molto diverso. Quindi ora una domanda al padre, non al musicista. Il padre che comunque ha un ruolo, anche educativo, è consiglio a una figlia. Una figlia poi che fa anche arte, spettacolo, che è un ambiente non dei più semplici, che comunque prospetta anche scorciatoie, semplificazioni, invece in cui uno... La donna di oggi, non in tutti i casi, ma in molti casi, è quasi nemica di se stessa. Dà la spalla a dinamiche, potremmo dire, misogene. L'uomo è padre, che riflette su questi temi e che è uomo da una parte, quindi parte del male, nella parte vincente della società, mettiamola così, ma in quanto poi anche padre deve aprire gli occhi e fare interessi del sesso debole, che debole non è, perché è la figlia. Sì, la cosa che ti dirò, com'è il tuo nome? Andrea. Andrea, la cosa che mi scoccia di più è aver scoperto dai neuroscienziati che la superficie del cervello della donna è esattamente il doppio della nostra. La cosa, ecco, io la dico perché è a onore della scienza, ecco, per cui la donna effettivamente ha delle valenze spirituali, emotive, culturali, decisamente superiori all'uomo. Io dico sempre scherzando, sì, se la donna avesse fatto la storia probabilmente ci sarebbero state meno guerre. Magari qualche battibecco in più, qualche pettegolezzo in più, perché no? La donna è comunque, e questo non è una critica, è comunque isterica nel senso di isteros. La donna è euterina, di conseguenza ragiona spesso di ventre, ma questo non è un difetto, perché l'uomo che ragiona con il cervello, con la ragione, ha combinato i casini più grandi nel corso della storia. Ecco, come padre, educare una ragazza è facilissimo se la ragazza è come lei. Ecco, nel senso che... Sì, nel senso che... Autoeducante, quindi. Sì, nel senso che si fa un percorso insieme. E si fa un percorso insieme. Cioè, il percorso educativo è un percorso che viene da educare e viene da educere, no? Cioè, tirare fuori un qualche cosa, ecco, il nostro compito non è insegnare, imprimere, ma cercare di tirar fuori qualche cosa da loro. Facendo un percorso insieme non è la cosa più facile del mondo, però ci si può tentare. Noi in parte l'abbiamo fatto anche con l'arte, perché da quando lei aveva otto anni, adesso ne ha ventiquattro, noi facciamo una strada artistica. Siamo partite dalle piazze, farle giù la rate, nei borghi di mezza Italia, le storie per i bambini, eccetera. Adesso facciamo spettacoli un pochino diversi, un pochino più da adulti e per adulti. Ecco, però abbiamo fatto una strada artistica insieme. Abbiamo fatto anche qualcosa nel cinema, nel teatro e nel cinema. Non l'ho mai lasciata sola, perché i rischi sono forti. Certo, lei a quest'ora avrebbe potuto diventare forse una persona importante nel mondo del cinema e della televisione, perché ha un'intelligenza attoriale non comune. Però il padre ha sempre imposto i paletti e la figlia ha sempre avuto il buon senso di accettarli, per cui adesso facciamo delle cose interessanti, belle, che possono portare alla gente un po' di gioia, e a noi tantissima, ma evitiamo i casini. Poi si lavora benissimo con lui, è un maestro perfetto. E' una botta di ruffianeria pazzesca. Com'è che diciamo nel nostro recital della donna che faremo martedì a Fiamé, una botta di leccacurismo, usiamo questo termine. Ma ci sta a volte. Perché è proprio il dialogo tra padre e figlia, ma soprattutto uomo e donna. Perché ecco l'errore, sai qual è stato Andrea? È stato inventarsi quella truffa colossale che si chiama femminismo. Nel senso che non dobbiamo parlare di uomo e di donna, dobbiamo parlare di persona, eventualmente di ruoli che possono essere intercambiabili, possono essere complementari. Però non parliamo più di maschi e di femmine nel senso deteriore, che ha rovinato l'alleanza tra queste creature che hanno la passerina e quelli che hanno il pisellino. Noi siamo persone, rendiamoci conto di questo. E in quanto tali abbiamo tutti la stessa dignità, non serve ribadirlo. E chi non lo riconosce è un imbecille. Punto e chiuso.